Io sono uno di quelli che si è irritato, come è stato detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non per le ragioni per le quali a cui loro alludono, ma perché è una sovversione completa, come è stato anche ricordato da parte di qualcuno, per disonestà intellettuale, una sovversione completa del problema. Qua si parla di stipendi, retribuzioni, ferie, cioè si dimentica completamente che noi non siamo lavoratori subordinati, siamo rappresentanti del popolo, è chiaro, siamo politici, diciamo così. Quindi tutto questo ragionamento che qui si sta facendo, come se fossimo lavoratori subordinati dell'ultima categoria dei metallo meccanici o di altre categorie, perché come giustamente un deputato qui una volta propose un disegno di legge, da 1 a 10 noi chi siamo, se lo vogliamo mettere su questo piano? Noi chi siamo?